Resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi in Puglia dove nelle ultime ore si sono registrate 11 nuove positività. A preoccupare sono gli assembramenti nelle strade e nelle piazze della Movida a cui il governo pone rimedio con l'arruolamento di 60.000 assistenti civili. Intanto pare risolto il nodo scuola e buone notizie arrivano sul fronte vaccini. Alba Di Palo. Nelle giornate in cui la fase 2 è contrassegnata da una Movida spesso incontrollata e pur cui oggi il Dipartimento di Protezione Civile nazionale lancerà un bando per arruolare 60.000 assistenti civici che controlleranno piazze, strade e mercati per arginare ed evitare gli assembramenti, arrivano i primi risultati del vaccino cinese pubblicati sulla rivista scientifica di Lancet. Superata la fase 1 sul ristretto campione, il vaccino è ben tollerato e soprattutto è in grado di sviluppare anticorpi, annuncia sui social Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente della Regione Puglia per la pandemia da Covid-19, che sta registrando dati in discesa. In Puglia, seppur di pochi decimali, è risalita la curva dei contagi. Secondo quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Task Force regionale, nelle ultime ore 11 persone sono state infettate dal virus. Si tratta dello 0,61% dei 1.832 test fatti. Delle nuove positività, 7 sono state rilevate nella provincia di Foggia, 3 in quella di Bari e 1 in territorio di Brindisi. Nessun nuovo caso nelle altre province. L'unico decesso è stato registrato nella BAT. Salgono di 21 unità i guariti che raggiungono quota 2.178, mentre dei 1.793 positivi accertati, l'86,8% è in isolamento domiciliare, mentre dei 222 ricoverati, l'1% si trova in terapia intensiva. Reparto che è privo di degenti nel Moscati di Taranto, dove restano solo 9 pazienti, 2 rianimazione e 7 malattie infettive. È sotto controllo invece la situazione in provincia di Foggia, dove un nucleo familiare composto da 5 persone è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di una famiglia che vive in un comune dell'Alto Tavoliere e che avrebbe avuto contatti, con ogni probabilità, con un contagiato che ha frequentato i componenti del nucleo familiare. Il Dipartimento di Prevenzione della AS di Foggia, con la collaborazione dei medici di Medicina Generale, ha già tracciato la catena dei contatti e ha provveduto all'isolamento domiciliare fiduciario. È stato invece raggiunto la scorsa notte un accordo sulla riapertura delle scuole a settembre. Gli insegnanti saranno assunti da settembre, a tempo determinato quindi per titoli e anzianità di servizio. Successivamente ci sarà un normale percorso selettivo e senza crocette per la stabilizzazione, sempre che l'emergenza Covid-19 lo consenta.